Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi si parlerà dei miei capelli Ancora una volta perché è l'argomento più gettonato del mio canale notato E quindi oggi vi spiegherò come ho ottenuto questi capelli In particolar modo come faccio ad ottenere i capelli idratati, rimpolpati, sempre al top Vi volevo spiegare un attimo il percorso che ho in questi mesi Il percorso che ho fatto per ottenere questi capelli e per avere ancora dei capelli Insomma, con tutti i cambi che ho fatto percorriamo Insieme una sorta di ricordo Perché tantissime volte mi scrivete come fai ad avere i capelli così morbidi Come fai a mantenerli, parlaci della tua hair routine Parlaci di questo prodotto un po' più a fondo Raccontaci meglio come ha funzionato, come funziona Perché in tante quando mi incontrate anche dal vivo mi chiedete di più Ho fatto un sacco di video a proposito del Bond Ultimate Che è quello che ha reso possibile tutto questo cambiamento Quindi Matrix ha reso possibile tutto questo cambiamento sui miei capelli Perché sapete che per me i capelli sono una sorta di specchio della mia personalità Ecco, io ho sempre avuto i capelli colorati da una vita Potrei contare, oramai da quando avevo 16 anni ho sempre cercato di essere diversa Di avere qualcosa di diverso nei capelli Perché per me è sempre stata una forma di espressione I vestiti per qualcuno sono una forma di espressione Le unghie, il trucco Ormai i capelli sono la mia forma di espressione Da quando avevo 16 anni come vi ho detto sempre cambiate i miei capelli E ho sempre fatto qualcosa di diverso Oramai da 4 anni a questa parte che li faccio colorati con colori pazzi Come è possibile ottenere tutti questi cambiamenti avendo ancora i capelli? Perché in tante magari dico Oh mio Dio ma avrei i capelli rovinatissimi Oppure come fai ad averceli ancora? Di base è un capello grosso e ho tanti tanti capelli Quindi sono sempre stata affortunata tra virgolette Però ultimamente ho fatto davvero un sacco di cambi in queste ultime settimane E questo ripeto è stato possibile solo grazie a Matrix I prodotti Matrix quindi il Bond Ultimate Che ha protetto il mio capello come vi spiegavo nei vecchi video Facendo sì che appunto non si spezzasse Non si andasse a rovinare durante le fasi di decolorazione e trattamento ovario Quindi ripercorriamo insieme un attimo il mio ricordo Ripercorriamo quello che ho fatto in queste ultime settimane Facendovi vedere tutti i cambiamenti che ho fatto Poi ne parliamo meglio nel dettaglio Insomma volevo spiegarvi e farvi vedere un attimo che cose i miei capelli hanno subito Quindi il ricordo dei miei capelli Ciao! 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 Andiamo a ciao! So che mi chiederete come fare a trovare I Saloni Matrix Mi avete scritto anche in privato Quindi vi lascio nell'info box il link Lo aprite, lo cliccate E vi dice tutti sono i Matrix più vicini a voi Quindi in questo modo potete trovare tutti i professionisti legati al brand Per poter fare anche voi il vostro trattamento col bond ultimate O comunque se avete voglia di cambiare Cioè nel senso questo prodotto Non è limitato a chi vuole fare per forza un cambio radicale Quindi io voglio diventare rosa Voglio diventare azzurra Voglio diventare rosso fuoco No, anche se fate una semplice tinta Un semplice colore tono su tono Questo prodotto va a nutrire il capello Va a preservarne la rottura Quindi è perfetto per tutte Adesso vi volevo far ripercorrere con me Alcuni frame della giornata Di quando mi è stato fatto il trattamento dell'air perfection Da il taglio che conta a Cesano Boscone Così da farvi vedere appunto che cosa hanno fatto sul mio capello E ovviamente avevo i capelli biondi Perché è stato fatto prima di questo look Quindi niente, godetevi questo ricordo S drago di fronte Grazie a tutti 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 Grazie a tutti